Sì, mi vedo già avanti nei preparativi, strinto tutto? Tutto a posto. Qui se ne sono accorti che è rotto? Vabbè, intanto io ho una paura. La prima volta? Sì, bene, bella storia, bella storia. Guarda che giornatina ci abbiamo oggi, direi molto fortunata. Ma manca qualcuno, no? Eccolo là. Te non salti? Non vieni su a saltare? Vieni anche te? Non vieni con la mamma, vieni? Siamo partiti, eh? Beh, beh. Beh, beh. Beh, beh. Grazie a tutti. Eccola! Eccola! Grazie a te! Grande Sandra! Aspetta, 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 tanto ti sgancia Andrea! Grandiosa! Brava! Guarda, le foto tutti insieme! Brava! Vieni qua che c'è la foto! Vieni, vieni! Eccoci! Skydive! Brava! A presto! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!